È difficile apprezzare e capire in cosa consiste NCD senza comprendere pienamente cosa intendiamo per approccio guidato da principi applicato allo sviluppo della Chiesa. Un approccio guidato da principi soddisfa i seguenti quattro criteri. Primo, i principi devono essere universalmente validi. Essi non si applicano solo a certe situazioni o a specifiche circostanze, ma si applicano a tutte le denominazioni, a tutti i modelli di Chiesa, a tutti gli approcci alla meditazione e a tutte le culture. Secondo, i principi devono essere dimostrabili. Fino a quando non esiste una dimostrazione chiara e tangibile, potremmo avere a che fare con un'idea interessante, degna di essere considerata, ma non dovremmo considerarla un principio. C'è solo un modo per riconoscere se un concetto è un principio universale. Una ricerca su scala universale, ovvero mondiale. Terzo, i principi hanno sempre a che fare con ciò che è essenziale, mai con aspetti secondari della vita cristiana. Per questo motivo possiamo aspettarci di trovare principi che influenzano la nostra vita anche nella Bibbia, anche se la terminologia può differire. Quarto, i principi devono essere sempre personalizzati. Essi non dicono mai esattamente cosa fare. Piuttosto essi danno dei criteri che mettono in grado di scoprire cosa li dovrebbe fare in una particolare situazione. Le nostre ricerche hanno identificato diversi principi che riguardano la salute della Chiesa. Tuttavia, esse hanno un denominatore comune. Ognuno di essi mira a rilasciare la crescita da se stessa. Con NCD il nostro scopo non è quello di far crescere la Chiesa, ma è di ridurre gli ostacoli a questa creati dall'uomo. Solo allora la Chiesa può prosperare da se stessa. Per poter comprendere questo principio può essere utile osservare la seguente immagine. Essa mostra un caretto con quattro ruote quadrate che trasporta una quantità di ruote meravigliosamente tonde ed estremamente funzionali. Il caretto è spinto e tirato da due persone con grande dedizione e impegno, ma che certamente sentono che la loro impresa proceda con estrema lentezza e si riveli molto frustrante. Questa parabola illustra un concetto importante. Dio ha già provveduto a tutto il necessario perché la Chiesa cresca. Il problema è che non ne facciamo uso. Invece di usare i mezzi che Dio ci ha dato, noi tentiamo di spingere e tirare la Chiesa con le nostre stesse forze. Allora, qual è l'alternativa sana? Con NCD identifichiamo sei forze che chiamiamo le sei forze della crescita. Interdipendenza Moltiplicazione Trasformazione dell'energia Sostenibilità Simbiosi E fruttuosità Studiando approfonditamente queste forze, si scopre che ognuno di esse mira a stimolare la crescita da se stessa. La stessa cosa la si osserva quando si studiano le otte caratteristiche di una Chiesa in crescita. Guide che equipaggiano Ministerio basato sui doni spirituali Spiritualità appassionata Strutture funzionali Culti che ispira Piccoli gruppi olistici Evangelizzazione rivolta ai bisogni Relazioni Relazioni amorevoli Ognuna di queste caratteristiche qualitative consiste di un sostantivo, colonna A, e di un aggettivo o frase aggettivale, colonna B. In tutte le otte aree, gli aggettivi sono i fattori decisivi. Ognuno di essi mira a stimolare la crescita da se stessa. Si può dimostrare che qualsiasi modello di Chiesa avrà successo solo nella misura in cui applicherà, consapevolmente o no, l'insieme di principi che abbiamo voluto definire sviluppo naturale della Chiesa. Questa scoperta è uno degli aspetti più rivelatori nella nostra ricerca in 40.000 Chiese. I principi sono applicabili indipendentemente dalle vostre tendenze teologiche, il vostro modo di concepire il ministerio o dal vostro modello di Chiesa preferito. Essi concernono la vostra vita personale e la vita della vostra Chiesa. Essi applicano anche se decideste di non utilizzarli.